Hai qualcosa da fare domani? Perché? Perché io e lei passeremo la notte insieme. Fai tanto la timida, ma poi quanto ti piace farti guardare. Conosci una vittima. Ha visto qualcosa che non doveva vedere? Sì. Questa storia è un mistero. Non so proprio che cosa volevano da lei. C'è qualcuno che ti ha detto di dirmi così? Grazie a tutti.